eremo di santonofrio al morrone vicino sul mona ecco dall'eremo la badia morronese la badia dei monaci di pietro angelerio di poi papa celestino quinto i monaci celestini che vissero qui la badia fu poi soppressa per colpa come sempre degli illuministi dei napoleonici che vi fecero addirittura un carcere cacciando via i monaci vi fecero un carcere oggi è sede museale ma eccola vediamo dall'alto e da qui scopriamo l'eremo di santonofrio ecco come si presenta oggi l'eremo qui nella valle sottostante prima visse da eremita fondando una chiesa dedicata a santa maria delle grotte poi si trasferì dall'altro lato della maiella dove fondò l'abbazia dello spirito santo e poi dopo ritornò qui in questo in questo eremo e bisogna salire qui per arrivare si vede la valle sotto ma bisogna salire ed era qui quando il conclave lo elesse papa dopo discussioni che durarono due anni e venne il re d'angiò a comunicargli che era stato eletto papa lui che era un monaco e a chiedergli se accettava la nomina a pontefice e una volta che lui accettò lo condusse all'aquila con le maggio dove poi dopo venne ordinato vescovo e così divenne papa l'eremo conobbe numerose trasformazioni comunque pietro del morrone appunto proprio per il nome di questo monte vi tornò qui lui era nato ai serni avvenne viene chiamato del morrone per questo monte vi torno qui quando abdicò poi fu trasformato moltissime volte infine la seconda guerra mondiale lo fece saltare per aria scoperchiò il tetto perché fuggirono alcuni prigionieri dal campo di concentramento dei prigionieri di guerra e scapparono sui monti i tedeschi pensarono che stessero qui e un po anche con questa scusa bombardarono ed ecco che in questa porta qui si entra dove è custodita e venerata la grotta dove visse agli inizi della sua vita il nostro eremita monaco ancora una volta si vede proprio la centralità dell'eremitaggio del silenzio della preghiera è la esaltazione di quel periodo della vita di gesù che sono le tentazioni del deserto il deserto l'essere vicini a dio dire se sei figlio di dio sono figlio di dio e questa forza che restituisce sempre la preghiera e l'eremitaggio in particolare agli uomini che vivono nel mondo il legame con dio prima e a sostegno di ogni attività nel mondo essere nel mondo e non essere del mondo essere di dio ed essere nel mondo e per questo anche fuggire dal mondo per essere di dio non posso farvi vedere i resti degli affreschi medievali dove c'è sempre il cristo con la madonna e il battista il battista che celestino amava e fece la perdonanza proprio nella festa del martirio perché col dito aveva indicato colui che perdona qui vedete la statua di celestino quinto che lascia la tiara lascia il cappello da papa per tornare nella preghiera e qui c'è un passaggio di benetto sedicesimo nell'omelia che fece qui in piazza dicendo che con celestino noi ricordiamo la santità la santità non perde mai la propria forza attrattiva non non cade nell'oblio non passa mai di moda quante mode passano anzi col trascorrere del tempo risplende con sempre maggiore luminosità esprimendo la perenne tensione dell'uomo verso dio ecco che cosa ci ricorda celestino questa tensione questo bisogno questo bisogno di trovare dio nella preghiera nel silenzio qui vengono le persone a pregare salgono all'eremo e pregano cercando per intercessione del santo monaco papa e poi di nuovo monaco la grazia di dio da qui si vede in basso la valle la valle peligna sul mona e sulla sinistra in basso si vede la badia poi costruita dai monaci di celestino e si vede qui il sentiero che sale si vede ancora una volta come gli eremiti cercano un luogo in cui benedire la città benedire la vita degli uomini ma anche ritirandosi da essa sapendo fare silenzio sapendosi di staccare mostrando che la vita del tempo la vita che passa non è tutto della vita dell'uomo ma c'è dell'altro nella vita dell'uomo ecco il mistero e scendendo si ritorna nella città degli uomini a vivere la vita degli uomini qui da una piazzola che è sul sentiero si vede di nuovo la badia fatta costruire da celestino e da ci qui si vede la città di sul mona eccola e qui si vede l'eremo in alto eccolo il mistero di una grazia che illumina una città e una comunità di monaci